Erano le 10.10 di stamattina quando la macchina con a bordo il pontefice è arrivata all'aeroporto di Fiumicino. Ma nel cuore di Francesco il viaggio, il decimo e più lungo del suo pontificato, è iniziato già ieri sera, quando segretamente si è recato alla Basilica di Santa Maria Maggiore per pregare davanti all'icona della Salus Populi Romani. Un rito semplice che continua ad accompagnare Papa Bergoglio nei suoi momenti più significativi. È stata questa infatti la sua ventiquattresima visita in Basilica. Ma prima di uscire da casa Santa Marta, Francesco ha voluto salutare la famiglia di rifugiati siriani che ha trovato ospitalità in Vaticano, un altro incontro intimo e riservato. E poi finalmente, eccolo salire la scaletta con alla mano la borsa che abbiamo imparato a conoscere. Dentro, probabilmente, ci sarà il biglietto intestato a sua santità Francesco, che lo accompagnerà in questi primi giorni negli spostamenti cubani. Una volta preso posto, alle 10.32 il volo è decollato alla volta dell'isola caraibica, dove cresce l'attesa per l'arrivo del pellegrino della misericordia. L'umore di un popolo è racchiuso nelle parole della quindicenne Yanara. Sono davvero molto emozionata e penso che potrà aiutare noi giovani per il nostro futuro, a migliorare come esseri umani e a crescere come cristiani. Non sarà solo però la speranza dei fedeli ad animare queste giornate. Fino a martedì 22 a Cuba e quindi fino a domenica 27 negli Stati Uniti, dove il Papa parlerà al Congresso, all'incontro mondiale delle famiglie e all'Assemblea dell'ONU. Grandi sono le aspettative geopolitiche di questo viaggio e i frutti si stanno già accogliendo. Dopo la riapertura reciproca delle ambasciate, ieri, come annunciava in apertura il DG della TV di Stato cubana, Barack Obama e Raul Castro hanno parlato al telefono del viaggio del Pontefice, ribadendo il ruolo cruciale avuto da questi nel processo di disgelo tra Washington e Lavana. Il prossimo passo, il più atteso, è la fine dell'embargo economico, sul quale però dovrà pronunciarsi il Congresso americano. Ma già al lunedì saranno riviste le regole che riguardano ad esempio il settore delle telecomunicazioni e quello commerciale. Insomma, nuovi orizzonti potrebbero essere quelli che si delineeranno dal 28 settembre. Quel giorno Francesco sarà di ritorno a Roma, mentre Castro e Obama si ritroveranno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.